Massimo Galli, buongiorno. Voi a casa non so quanto siete stati attenti ai numeri della crisi di governo. Capisco che avete avuto anche un po' di mal di testa, ora vi consiglio di stare molto attenti perché la discussione che faremo adesso ci interessa davvero tutti, dal primo all'ultimo, perché il tema dei vaccini è il grande tema di questi giorni. Professor Galli, bentornato. Dopo le faccio anche sentire Conte che parla di lei, dico la verità. Però invece partirei dai vaccini perché credo che sia questo il grande tema di oggi. Mi ha molto colpito il numero di vaccini somministrati ieri che è di 14.537, davvero pochi, molto molto pochi. Che succede? Abbiamo parlato di almeno 60-70 mila dosi al giorno, vi ricordate? E già secondo tutti erano pochi, noi facciamo un conto che per poterci vaccinare davvero in tempi rapidi bisogna andare oltre le 100 mila dosi al giorno. Professore, che idea si è fatto? Come stiamo procedendo? C'è questo vulnus pazzesco di Dick Kreitzer che ha detto all'improvviso che non riesce a fare le consegne come previsto. Insomma, io sono davvero preoccupata. Beh, lo siamo un po' tutti. Devo dire francamente che però non dico che me lo aspettassi, però trovavo difficile che in una situazione come quella che stiamo vivendo e con la necessità di vaccinare il mondo fosse così facile garantire un flusso regolare di vaccini nel nostro paese. Credo che questo vale per noi, vale anche per gli altri. Purtroppo ecco, il vaccino che arriva col contagocce, che arriva poco alla volta, ci crea un problema sicuramente in termini di anche rapida riduzione della circolazione del virus e quindi più lento arriva il vaccino, più lunga diventa la storia, insomma. E più il virus continua a circolare in presenza di vaccino e di vaccinati e questo può crearci qualche problema anche in termini di selezione e di resistenze. Però io proprio non voglio fare né la Cassandra né il profeta di sventure, voglio dire semplicemente che anche su questo aspetto dovremmo stare molto attenti, dovremmo cercare di fare le cose bene dal punto di vista dell'andare a monitorare quel che succede in termini di comparsa di varianti nuove o meno nuove che circolano per il paese. Ecco, adesso ci arriviamo alle varianti, professore, perché lì mi deve spiegare bene una serie di cose. Mi arriva in questo momento in mano un'agenzia che dice che il governo italiano si attiverà davanti all'avvocatura dello Stato contro Pfizer per dirvi a che punto di drammaticità è questa storia, che tra l'altro voglio dirvelo con chiarezza riguardo a tutta l'Europa, cioè il tema è Europa, addirittura ci sono dei sospetti che Pfizer sta dando dosi a Biden che devono essere dell'Unione Europea, che sia anche un tema di soldi, di chi mette sul piatto più denaro. Lei questo sospetto ce l'ha, professore, giusto per capirci? Guardi, io non voglio avere sospetti in assenza di, come sempre, in assenza di dati, in assenza di cose che mi dicano che il sospetto è fondato. Ripeto che credo che il problema principale sia l'adeguatezza degli impianti per la produzione di un numero sufficiente di vaccini che possono essere distribuiti rispetto alle date previste. Se poi c'è qualche altro fatto che non conosciamo e che magari qualcuno conosce più e meglio di quanto posso conoscerlo io, che ci pone qualche sospetto, qualche cosa che tutto sommato non ci piace attorno a questa questione, non lo so ed è inutile così parlarne... Certo, ha ragione. Scusi, però quello che lei mi ha detto prima, sostanzialmente... Non so quanto servono le pertenze giudiziarie a livello internazionale per un problema come questo. Quello che mi ha detto, è che se mi fai sarà firmato un contratto troppo oneroso, in qualche modo, che peraltro è una cosa che dice anche un po' stamattina Cavaleri, che è un signore importante perché è il... E' competente anche. E' responsabile dei vaccini dell'EMA. Lui dice, ce lo potevamo aspettare, no? Perché dice che gli ordini sono troppi, stanno cercando di aumentare la produzione, non hanno scorte, cioè insomma che esiste un problema strutturale in qualche modo. E quindi insomma il tema si fa molto difficile, anche perché appunto l'azione legale è benissimo, ma qua non ci interessa avere le dosi di vaccini, non è che abbiamo bisogno di fare chissà quali processi internazionali. Arriviamo un momento al tema della...